guardiamo un po' più scaglionati guardiamo presso estensione quasi più posto presso estensione vuoi ancora due andature vuoi chiudere vai, buono, bene con le braccia giù a su, buono su, su e vado bene, andiamo, andiamo gambe tese, gambe tese quando vuoi Brian dall'altra parte su e vado vado verso l'alto, manca una spinta laterale e frontale